Siamo in piena estate, luglio del 2014, Augusta come l'anno scorso, ancora una volta soffre per la mancanza d'acqua. Noi abbiamo parlato con la dottoressa Librizi qualche giorno addietro e ci ha rappresentato una situazione di forniture con la Brodo. Vorremmo parlare con la dottoressa Conciuo adesso per venire incontro alle tante domande che sono state rivolte dai cittadini. Ma è possibile che paghiamo anche tanti soldi per la forniture dell'acqua, per esempio un depuratore che non c'è, questo bisognerebbe anche dirlo, però abbiamo queste problematiche. Io purtroppo non posso che confermare quello che ha già detto qualche giorno fa il prefetto. In realtà, come sapete, questa ormai è una cosa abbastanza nota, noi stiamo lavorando sugli impianti che per la verità ancora neanche formalmente ci sono stati riconsegnati dalla SAI-8 perché hanno proceduto a fare un sopralluogo e quindi per la redazione dello stato di consistenza. Siccome dobbiamo dare l'acqua ai cittadini stiamo intervenendo in maniera sistematica su tutta una serie di situazioni di criticità. Mi si diceva stamattina che nella linea che porta alla zona di Agnone-Bagni, dove voi sapete quante difficoltà ci sono, allo stato sono state trovate 16 perdite e quindi a mano a mano che vengono sistemate e riparate è chiaro che poi l'acqua trovando dei vuoti anche dopo continua in qualche modo a fuoriuscire in maniera a volte anche abbondante. L'approvvigionamento non è sufficiente, questo è il senso? L'approvvigionamento sta tornando lentamente, non dico alla normalità, ma ad una situazione che io mi auguro che sia accettabile. Mi rendo conto che in questo momento alcuni vedono qualche risultato, qualcun altro magari non lo vede ancora. Però c'è un lavoro che, credetemi, non si è fermato un attimo. Per quanto riguarda la tassa sulla depurazione, il depuratore che non c'è, lei cosa ci dice? Anche questa è una questione che adesso stiamo vedendo un attimo di affrontare perché qui voi sapete questa vicenda che i progetti, c'è ancora la 6-8, quindi su questo è una cosa, ancora tasso non ne abbiamo messo, quindi come dire... Come commissione, però in passato è stata pagata. È un tema che affronteremo, è un tema che andrà affrontato su questo, per ora non mi sento di dire cose precise perché purtroppo cose precise non ce ne sono.